Questo qui è un premio sul civismo, vengono premiati tutti i soggetti che si sono distinti in qualche ambito, nell'ambito culturale, nell'ambito scientifico, medico o semplicemente insomma hanno dato un contributo alla società. Così Maria Grazia Wittemberga, sindaco di Isola Capo Rizzuto, a margine della seconda edizione del premio Aragona. La serata quest'anno si è tenuta alle castella ed è iniziata ascoltando le note di Ademius di Carl Jenkins suonate alla perfezione dall'orchestra Acam di Crotone diretta dal maestro Fernando Romano, sistemata su un suggestivo palco galleggiante in mezzo al mare. Nel corso della Kermes, presentata dal giornalista Francesco Oliverio e che ha visto come padrino l'orafo Michele Affidato, sono stati consegnati premi e riconoscimenti a quanti si sono distinti in diversi campi con il loro operato. Premiato Santo Gioffre, medico, scrittore, ex commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria, fu proprio lui a denunciare la corruzione nell'azienda regina, dove si pagavano le fatture due volte per le stesse prestazioni. Sicuramente non c'erano i processi di controllo, sono falliti per 20 anni, a tutti i livelli, partendo dall'alto, dal ministero, fino ad arrivare poi all'ufficio che era... E questo è il guaio, questo è il fatto, perché questo denota che in fondo la cosa pubblica diventa alla portata e alla merce di tutti, perché appunto non c'è la sensibilità che deve essere l'anima dell'amministratore, c'è la sensibilità di avere l'amore per quello che si fa. Altro medico premiato, Giuseppe Raio, la direttore dell'Unità Operativa di Pediatria dell'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro. I bambini ci insegnano tanto e soprattutto ci hanno insegnato tanto in questo particolarissimo periodo della nostra vita, quello che sta vivendo la società, ma io sono molto grato per questo premio che credo in meritato. Comunque quello che posso dire è che nella nostra azienda ospedaliera abbiamo iniziato un lungo percorso, sin dagli anni 97, un percorso di sdrammatizzazione della malattia, che mira proprio a far sì che l'impatto ospedaliero possa risultare meno traumatico per i bambini grazie a molti progetti. Per il giornalismo il premio è stato assegnato a Francesco Repice, la voce sportiva più amata della RAI collegato da Roma, poiché è impossibilitato ad intervenire di persona. Il quarto premio è andato ad una calabrese illustre, Amalia Bruni, ricercatrice conosciuta in tutto il mondo per le sue ricerche neurologiche. Questi sono sempre riconoscimenti che fanno piacere, sono la testimonianza che uno che ha lavorato sempre in questa terra abbia poi un riconoscimento alla collettività. Premiato poi Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, un riconoscimento assegnato per il grande lavoro che l'organizzazione svolge ormai da 60 anni per i diritti umani, in modo particolare per la vicenda di Patrick Zaki, cittadino onorario di oltre 100 città d'Italia, tra cui Isola Caporizzuto. Ritengo e riteniamo che sia purtroppo un mondo in cui c'è ancora molto bisogno di noi. Noi come Amnesty abbiamo sempre detto che puntiamo alla nostra autodistruzione, ma come vediamo succedere in tutto il mondo, la situazione dell'Afghanistan di recente riesplosione, ma anche la vicenda di Patrick Zaki, un ragazzo che da oltre un anno e mezzo si trova incarcerato dal regime di Al-Sisi senza alcun processo, richiede purtroppo un nostro continuo impegno e la necessità di organizzazione come Amnesty.